Titi i proiettili in tasca che ti serviranno una volta morto Oh stiamo facendo una bella strage adesso mi piace Surtroppo se ti nascondi dentro la casa Madonna Ho trovato Madonna Dai belli ciò Ci siamo leggermente spostati sulla sinistra Mmm come faccio sbagliare certi tiri Ok dai sono i primi spy della giornata anzi della serata quindi devo un attimo destarmi E lì dietro Baby sei fortunato che la prima partita guarda molto fortunato Ma non esce più ma inizio ne ho perso la mia occasione di far fuori l'ufficiale nemico Non è proprio il luogo più adatto per cecchinare ma questa parte della mappa è solo alberi e bestemmie Quindi la scelta è poca Dobbiamo stare qui e essere pazienti prima o poi arriveranno Uh 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 Oppure li facciamo arrivare noi i proiettili in testa all'oro però giusto? Glielo facciamo arrivare Ma mi spieghi cosa Ma 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 Scusa scuspo Va bene Qua mi piace qua ci piace anche se non vedo granché E quello è un nemico sul cannone Scusa si è un nemico sul cannone non più Mi starà bestemmiano dietro quel tizio sicuro Poi bisogna un attimo indietreggiare perché non vedo nulla Nop Non mi guardare Mi dà fastidio la gente che mi fissa Scusa? Eh scusa sbuga Perché ho detto scuta? Trema! Aia! Christopher Avevo difeso malino eh Noi adesso possiamo fare qualcosa di costruzione da qui Questa abbiamo una bella visuale su un nemico Danni Gli prendo la gamba Riusciamo a prenderla quella gamba? Secondo me non più di tanto E invece si Il buon Woody ci ha riprovato E noi l'abbiamo ribecchiato Sento gente morire a fianco a me C'è un cecchino che ci guarda sicuro Giusto? Assolutamente c'è il cecchino che ci guarda Siamo molto distanti Devo guidare un po' più di più proiettile mi sa Sono un po' troppo vicini questi tizi L'ho preso ma qua trema tutto per dire Non si può neanche cecchinare in pace E' un tremare continuo E' veramente uno schifo Uno schifo Qua ci sono dei nemici molto vicini Addio ho bisogno di una posizione Non so neanche cosa sto cercando in realtà Posso essere rapidi nello sparare Lì posso sparare in me Uh 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 Si che si può baby Si che si può Ma quanto è faticoso Cecchinare sul monte changer Oh ciò che arrivano Occhio Da qui ho qualche bersaglio Uh Beccati Ma ha beccato me Tra i lecchi Il fante alleato C'è una cosa assurda Oh la sono stato vergognito Io Scusa Ma scusa Come ho fatto a cecchino A cecchino No a cecchinarlo A ceccarlo tutto questo tempo A cecchia Avete capito insomma All'attacco Ci sbrugliamo Ma andate ad occupare la zona Fate qualcosa Mio dio Che cosa Ehi la giovane Quella sono una ferita Forse Ma vabbè Vabbè Non ho parole Vuoi ricaricare per Dio Anzi per me Neanche per Dio Per me Molto più semplicemente Qui non vedo niente Cioè E' strappieno Quello cadavere E' strappieno di nemici Sul punto A Ma non li vediamo La cosa è molto Eccitante Dove sono Cioè Quanto è grande La zona Scusa Non mi pare così Immensa Uh cavolo Mi è scappato uno Forse mettete un po' più Sì Ma c'è C'è quella cosa Di ferro lì Listo Grazie Finalmente Cioè Quel tetto di ferro E' stata una cosa Allucinante Ora possono uscire pure Dalle porte E morire uno Dopo l'altro A me va benissimo Mmm Eh sì Come se non ti avessi visto Amico mio Che Cristo O vedo l'orecchio O vedo il mignolo Cioè Non vedo nient'altro Di questi nemici Alle volte Veramente pazzesco No Quella E fa Lurukai Fermateli Qualcuno Qualcuno sta passando Però moltissimo Mi raccomando Non sparare Tu vai tranquillo Non sparare Ti ti proiettili In tasca Che ti serviranno Una volta morto Oh stiamo facendo Una bella strage Adesso Mi piace Tu se ti nascondi Dentro la casa Amico mio Tu ti ho visto Dai Anche tu Anche tu là dietro Sfogiti Ma porco Giuda Solo per mortai Potete farmi fuori Bastardi E' stato malissimo Bravo Da qui potrei vedere C'era visuale Su qualcosa Ma forse no Bravo Che si è alzato E si è morto Non avevo mica capito Che c'era il giudizio Cioè è pazzesco Sono ovunque Mi piace questa posizione Anche a loro piace Che io signo qua sopra Ovviamente C'è qualcuno Lì sopra Mi vede qua Qualcuno Che non so neanche Dove sia E' pazzesco Le volte come ti vedono Lì è libero Quindi non c'è lì Il cecchino Dov'è questo cecchino? Bisogna trovarlo Assolutamente Madonna Non sono riuscito Del doppio Ma Ci sta questo infame Da qualche parte In qualche cespuglio E si nasconde Bisogna capire Scovarlo E distruggerlo All'istante Questo dove sta Mi ha sparato la pistola Non so neanche io Da dove Tra l'altro Non capisco nulla A causa C'è uno qua vicino A che parte Qui sul fianco Occhio Urca Uh Trovato Quickscoop Madonna Dai bello Ciao Urca Dove dove? Dal fianco? Eh si sono arrivati Di sopra Mi sa Quelli pensi Siano tutti nemici No forse no All'istante No forse no No forse no No forse no Grazie per la visione!